e lo stacco avviene in questo istante di slancio in avanti Indios DL che scavalca Freipress all'esterno generale Orso più a largo Iroqua e Deddy Di Esolo di dentro Insidia all'esterno in D-Lane poi impetuoso trio Eastler Jets Rial e Eastler con ora Iroqua che retrocede in coda 200 iniziali in un comodissimo 15 e 8 Indios al comando Freipress di rincalzo prova a farsi avanti in terza ruota Deddy Di Esolo aggira generale Orso e punta su battistrada 14-18 di seconda frazione 36 il quarto iniziale lungo l'arco della seconda curva Indios al comando Deddy all'arco Freipress alla corda all'arco è generale la scia di generale Indy Lane Olm che chiude allo steccato Insidia 646 abbondante poi quarto alla corda segue impetuoso trio con allargo Jets Rial chiudono in coppia 1-2 intanto di 800 chiudono in coppia Iroqua e Eastler doppia fila lungo l'arco della penultima curva poi c'è il tentativo in terza ruota di Jets Rial l'opposizione da parte di Indy Lane i due in coppia cercano di risalire il gruppo intanto Indio Stielle è transitato al chilometro in un comodissimo 1-19 sulla retta opposta alle tribune si scatena la lotta la rottura di Indy Lane Olm 14 secolo numero 8 Indy Lane Olm squalificato poi la rottura anche di generale Orz un contatto un contatto e la caduta un contatto con impetuoso trio la caduta di Franco Fumagalli che però riesce anche a trattenere a non far fuggire via generale Orz retta di arrivo Indios al comando all'attacco di Freipress Indios in vantaggio dopo la curva in 14 e mezzo Indios controlla la situazione l'arrivo ancora in 14 e mezzo su Freipress e Insidia